Nessuna opera infrastrutturale e logistica destinata a diventare retroporto di Salerno dovrà essere realizzata sul territorio del comune di Nocera Inferiore. Si schierano contro il retroporto alcuni consiglieri comunali di opposizione di Nocera Inferiore che sono intenzionati a dare battaglie e chiederanno un'apposita seduta di consiglio comunale per dibattere dell'argomento. Depositata ieri la richiesta di convocazione di consiglio comunale monotematico sul retroporto in essa le motivazioni che spingono le forze di opposizione a dire no all'area retroportuale. Pronta una proposta di delibera di consiglio comunale ad oggetto proprio alla mozione di indirizzo sul tema della logistica del cosiddetto retroporto. Le considerazioni delle forze politiche di minoranza partono dalla riflessione che il retroporto assieme al completamento delle infrastrutture, dragaggio, allargamento dell'imboccatura e porta ovest costituirebbe una delle priorità per lo scalo cittadino di Salerno in quanto il porto non può più estendersi verso il mare e quindi sarebbe assolutamente indispensabile puntare verso l'interno. Nella Valle dell'Irno è stata già messa a disposizione dagli operatori dello scalo marittimo cittadino un'area logistica di circa 230 mila metri quadri sin dal 2004 ma si è alla ricerca di un'altra area di adibire al retroporto. L'ipotesi di destinare una vasta area a nocere inferiore è dunque più concreto che mai. E' per questo che si prendono le distanze da una simile scelta ricordando peraltro che nel corso della campagna elettorale scorsa il tema retroporto è stato molto dibattuto dai candidati a sindaco atteso l'enorme interesse che l'argomento suscita nei cittadini. In particolare i candidati a sindaco pur con qualche distingo avevano escluso la volontà di realizzare una zona logistica destinata al retroporto di Salerno consapevoli della necessità di evitare di sottrarre suolo all'agricoltura e dalle piccole e medie imprese artigiane ed industriali del territorio nonché per evitare il traffico di autocarri che determinerebbe un ulteriore aggravamento della qualità dell'aria e della mobilità cittadina già difficile a nocere inferiore.